Abbiamo cittadine meravigliose nel nostro territorio e con una incisiva promozione possiamo rilanciare l'industria turistica. Le nostre grandi infrastrutture devono poter funzionare meglio e così come ho già fatto in passato, mi batterò perché questo accade. Massimo ha fatto tanto per Brindisi anche non essendo in politica, oggi scende in campo, io sono contento che sono stato invitato alla festa del battesimo. Grazie!